Buongiorno a tutti, io mi chiamo Annalisa e sono residente del Comunicato di LINE e insieme al mio collega siamo rappresentanti portavoce del laboratorio che ha lavorato sul nuovo statuto comunale, quindi è salvatore e ci affermiamo un po' nella presentazione. Abbiamo alle nostre spalle una prima slide che riporta le tematiche, i primi due sono delle tematiche che abbiamo già fatto esporre, affrontate dagli altri due laboratori, partecipazione e comunicazione, le ultime tre invece, trasparenza, sussidiarietà e identità, sono quelle tematiche che il nostro laboratorio ha deciso di affrontare e sviluppare tra le tante possibili, perché uno statuto è un argomento abbastanza basso, in questo argomento del nuovo statuto, in quanto sono state ritenute tre valori importanti nella gestione di una nuova collettività, in prima battuta però ci siamo ovviamente chiesti che cosa sia uno statuto comunale. Buongiorno a tutti, come ha detto la mia collega, sono salvatore e abito a figline, mi ha girato appunto questa domanda che ci siamo appunto chiesti durante il laboratorio sullo statuto e lo statuto come vedete sulla slide rappresenta la Costituzione del Comune, è un documento che è composto appunto di norme, di principi, di linee guida e quindi da questo noi abbiamo sviluppato nel nostro laboratorio, abbiamo cercato di inserire quei tre elementi sovracitati di trasparenza, di sussidiarietà e di identità, trasformandoli in norme, principi e linee guida del nuovo Comune. Come dice la definizione, lo statuto è un testo normativo che poi diviene tecnico, quindi è qualcosa di veramente cartaceo e abbastanza anche complicato, ma che continua a portarsi dietro i valori e i principi del popolo. Non dimentichiamo che è anche ripreso dall'articolo 114 della Costituzione in cui dice i comuni, le province e le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, potenti e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Siamo di fronte a un'esperienza nuova che è quella di fondere insieme non soltanto due amministrazioni ma due collettività, due comunità territoriali e quindi la seconda domanda, se così possiamo dire, che ci siamo fatti è stata quella di che concetto abbiamo in identità, ci sarà un'evoluzione di cittadinanza e quindi cambierà l'identità di ognuno di noi. È stato molto positivo e anche capitulante vedere che dal primo fronte fra di noi, nessuno di noi intendeva con questo cambiamento di perdere quei valori di territorio, storia, cultura, vengono percepiti comunque come già assodati. I timori erano altri, ovvero sia quello di sentire disgregata forse a volte più che mai la relazione tra cittadino e istituzione. Quindi abbiamo deciso di dare al concetto di identità questo significato di rapporto tra cittadinanza e amministrazione e di andare a capire come questo possa essere ulteriormente valorizzato prendendo questa nuova esperienza come spunto. Abbiamo quindi voluto stabilire che questa nuova esperienza non deve essere nella somma di due strutture amministrative, né tantomeno un'occasione di destrutturazione, ma anzi un modo per ripensare questo tipo di relazione. E proprio partendo da questo, quindi arrivando proprio verso una disciplina statuale dell'identità, come ha detto la mia collega, il nuovo comune unico dovrà avere la conoscenza diffusa di tutti i bisogni sul territorio. Quindi dovrà avere una conoscenza dei bisogni del territorio attraverso gli strumenti di rappresentanza collettiva, quelli che sono le ONUS, le associazioni, volontariato, una conoscenza mirata dei bisogni prioritari di intervento sul territorio, quindi non basterà conoscere di tutti ma sapere anche quelli principali, quelli di prima importanza, attenzione e controllo quindi dei soggetti erogatori di tali servizi e garantire logicamente un livello di presidio territoriale di questi servizi. Quindi un nuovo modello vero e proprio di controllo sociale. Con questa premessa si impone quasi il tema della sussidiarietà orizzontale citato in Costituzione dell'articolo 118 e che significa la collaborazione tra ente, pubblico, amministrazione, ente privato ma anche associazioni di non profit nel lavoro di risposta ai bisogni della collettività. è un tema attualissimo soprattutto in vista della realtà che abbiamo davanti, ovvero sia un crescente domanda di bisogni e una sempre minor possibilità, sempre minori risorse a parte dell'amministrazione per potervi rispondere. Quindi la sussidiarietà orizzontale intesa come un sistema diffuso di organizzazione di servizi formato da soggetti pubblici e privati che collaborano con diverse tipologie di relazione per rispondere ai bisogni del territorio producendo così il valore pubblico. Nell'ottima di questo obiettivo il nuovo statuto speriamo che intenderà questo sistema di conoscenza dei bisogni al fine di rispondere alle necessità locali e si promuoverà e il comune si promuoverà come soggetto attivo nella promozione di questa cultura di collaborazione il consiglio comunale definirà quali siano gli ambiti che escluderà da certi sistemi di collaborazione quali sono dei settori in cui si vuole mantenere il monopolio pubblico e diversamente definirà i livelli di protezione sociale ovvero sia quali sono i bisogni primari a cui rispondere e verificherà nella scelta di come rispondere a determinati bisogni, verificherà se ci sono operatori di mercato o anche forme di volontariato e associazionismo che sono in grado di rispondere a queste determinate necessità, stabilendo quali sono dei standard qualitativi per poterlo fare. Da qui ci allacciamo alla trasparenza, la trasparenza appunto non è come può essere intesa attraverso il vocabolo della parola, non coincide nel soltanto prendere visione di ciò che un ente amministrativo un comune può dare, ma deve essere anche un qualcosa che sia comprensivo per i cittadini. Esempio oggi andare a visionare, per fare un esempio, un bilancio di un'amministrazione non è facile da recifrare per un comune cittadino. E la nostra nuova, maturata nel laboratorio, la nuova idea di trasparenza è dare un'informazione mirata, vera e propria, tra cittadino e nuovo comune, dove si interloquisce con dati certi essenziali, quindi abbastanza sintetici, per una facile lettura sia qualitativa che quantitativa della gestione del territorio e dei servizi. Quindi secondo noi è trasparente un'amministrazione che garantisce la comprensione di questi suoi atti, della sua organizzazione e del funzionamento della sua organizzazione, dei programmi, dei risultati e delle informazioni rilevanti per il cittadino. Quindi la trasparenza alla fine non è un fine, ma è uno strumento per valutare, per decidere e per fruire i servizi per contribuire alla scelta dell'amministrazione. E quindi di qua passiamo verso una disciplina statutaria della trasparenza nel luogo comune. La trasparenza quindi a questo punto come accessibilità totale alle informazioni in possesso dell'amministrazione, cioè deve essere molto facile accedere a queste informazioni e l'amministrazione quindi deve dare queste informazioni. L'amministrazione deve attuare, come abbiamo già sentito precedentemente negli altri laboratori, i più evoluti sistemi tecnologici per dare queste informazioni. Cioè il cittadino ci deve arrivare con facilità a queste cose, non più deve essere una cosa farraginosa. La trasparenza quindi va intesa, vuol dire che il nuovo comune deve rendere noti i principali indicatori di bilancio dei costi a cui è soggetto. A cui fa un esempio, un costo può essere un esempio il costo dei scuola bus, il costo delle mese. Cioè quindi andare su un discorso molto più pratico ma che dia dei numeri, degli indicatori. La trasparenza è anche che il comune deve rendere noto, per un discorso di efficienza, rendere noti i responsabili e i tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché i tempi medi e gli iteri di conclusione degli stessi. Quindi un grado veramente di efficienza dell'amministrazione. Il comune poi, logicamente per questo, deve anche rivelare la conoscenza della qualità e dei gradimenti di questi servizi. Quindi tenere bene in risalto questi tre indicatori di bilancio, l'economicità e l'efficienza e la qualità, devono essere basilari per una vera e propria trasparenza nel nuovo comune. A questo punto io concludo e ci teniamo comunque a ringraziare soprattutto il nostro caro Valero Gliossa, che ci ha dato un grosso contributo, una grossa mano e ci ha permesso veramente di fare questa presentazione, anche perché ve ne sarete accorti, quest'argomento laboratorio sullo statuto era un po' quello più, diciamo, tosto, se lo vogliamo dire, proprio in versione scolastica. Grazie a tutti. Grazie.